Sara vive da sola, studia e poi lavora Sara Italiano 10, Storia 10, Comportamento 10 Sara che cammini sotto il sole, hai deciso di partire Geografia 10, Matematica 10, Scienze 10, Comportamento 9 Sei il miglior padre che conosco Pure tu sei la migliore madre che conosco Son mesi che sto fermo Che pure il cervello ne fa bene Quanto segue è ispirata a una storia vera La storia vera è ispirata a una storia falsa La storia falsa non è molto ispirata Grazie a tutti